Ciao a tutti, siamo a Otranto, la bella del Salento, il comune più al sud d'Italia. Qui siamo all'ingresso del Calvoncico e le bronchi, venite con me. Grazie a tutti. Siamo a Piazza del Popolo, tra le vie dello shopping e della movida. Siamo nella torre matta. La cintura è accesibile e c'è anche la cintura. Siamo a Piazza del Popolo. Siamo a Piazza del Popolo. Siamo a Otranto, la bella del Salento, il comune più a est d'Italia. Qui possiamo ammirare la Cattedrale della Santissima Annunziata, il Castello Aragonese e tantissime altre bellezze. Continuate a seguirmi. Questa bellissima passeggiata nel postato del Castello Aragonese è stata aperta al pubblico il 2 luglio. Ed ecco il tramonto su Otranto. Siamo a Piazza del Popolo. Siamo a Piazza del Popolo.